Rientro in disponibilità o in campo di Douglas Costa, non va un po' a farle sacrificare un modulo che sta funzionando molto bene in questo periodo oppure un allenatore lo vede come un arricchimento dal punto di vista tattico? Ma io non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché in effetti Douglas Costa si sta allenando sempre a parte, quindi non c'è stato al momento il rientro di Douglas. E quindi è una domanda da prendere in considerazione per il futuro. Durante la settimana abbiamo avuto il rientro mercoledì in gruppo di Danilo e ieri di Ramsey per quanto riguarda Douglas e per quanto riguarda De Sciglio. Dal nostro settore medico mi stanno arrivando notizie confortanti ma ancora non c'è stato nessun rientro in gruppo. Buongiorno Giovanni guarda la Sky Sport, al di là di quando rientrerà Douglas Costa le chiedo un giudizio, insomma visto che sono diverse partite che per necessità ha cambiato modo di giocare, le chiedo un giudizio su come sta andando con il trequartista e se invece appunto rimane come sistema di riferimento una volta che avrà tutti a disposizione il 4-3-3 di inizio stagione. Io penso che questa squadra deve essere pronta a tutte e due queste soluzioni. In questo momento stiamo facendo un modulo neanche semplice sotto certi punti di vista soprattutto per la fase difensiva e lo stiamo facendo in maniera non perfetta chiaramente ma lo stiamo facendo abbastanza bene. Quindi in merito dei ragazzi in poco tempo hanno saputo andare a una buona interpretazione di questo modulo però in base al giocatore a disposizione vediamo poi di partita in partita quale sarà meglio scegliere ma penso che dobbiamo essere pronti a utilizzarli tutti e due. Buongiorno Codini nella stampa, le voglio chiedere il Bologna è una partita potenzialmente delicata perché arriva dopo una sosta e le soste sono sempre un po' più pericolose però le voglio chiedere anche insieme col Bologna la presenza di Mia e Loci domani che tutti si augurano cosa può dare anche a lei visto l'amicizia che vi lega. Bologna è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa fase iniziale della stagione questo è un'opinione personale però poi ci sono numeri Bologna è una delle squadre che recupera più palloni Bologna è una delle squadre che tira più in porta è una delle squadre che subisce meno tiri in porta quindi è una squadra in questo momento ha dei numeri di altissimo livello è una squadra periodosissima da affrontare spero che il sinistra sia in panchina domani perché lo rivedo veramente molto molto volentieri. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Io volevo sapere se per le caratteristiche del Bologna domani può essere più adatto un attaccante come Guain che gioca in un certo modo oppure uno come Dybala che gioca in un altro. Quindi mi hai girato la domanda per sapere i gioca. Io penso che siano adatti tutte e due. Buongiorno mister Romeo, agressi gol.com. Nelle conferenze stampa precedente aveva detto di voler recuperare totalmente Rugani. Le chiedo se è giunto il momento magari farlo giocare in queste partite. Grazie. Ma è chiaro, noi nella linea difensiva abbiamo cercato di dare continuità perché era l'unico modo per avere dei miglioramenti e per innalzare il livello di organizzazione del reparto arretrato. Una volta trovata un minimo di stabilità da questo punto di vista è chiaro che quello rimane un obiettivo importante. Io il ragazzo lo conosco bene, era un ragazzo di grandissime prospettive fin da giovanissimo, è un ragazzo di grande valore e quindi è chiaro che uno degli obiettivi stagionali è anche il recupero di Rugani. Buongiorno, Manuele Gamba, Repubblica. Volevo chiedere se anche lei ha avuto la percezione che dopo la vittoria di San Siro sia stato un punto di svolta anche per lei oltre che per la squadra. Anche il pubblico stesso, Juventino, la sta vedendo credo in una maniera diversa. Prima c'era forse uno cetticismo che questa partita ha spazzato via. E' d'accordo con questo? Pensa che sia cominciata davvero la sua avventura giuventina dopo quella vittoria che peraltro vi ha portato in testa la classifica? Ma io questo sinceramente non lo so. Tanto come ti ho sempre detto, l'aspetto scetticismo nei miei confronti è qualcosa con cui convivo da tantissimi anni. Quindi non è che mi influenza neanche più di tanto. La classifica in questo momento non ci interessa. Dobbiamo essere concentrati su dare continuità a prestazioni di buon livello. Perché poi il risultato deve arrivare a una logia conseguenza. Spero che sia stata una partita importante, ma sono tre punti che abbiamo già preso. La partita è passata e quindi penso anche che ci dobbiamo concentrare su una partita difficile materialmente per i motivi che ho detto prima. E' difficile mentalmente perché il rientro da una sosta è sempre difficile. Perché sembra banale, ma togliere un giocatore da un contesto, da un modo di giocare, da certi obiettivi, metterlo in un altro contesto, in un altro modo di giocare, in un altro obiettivo. E poi tornare in due giorni, spesso in un giorno, all'origine non è automatico. E quindi può creare delle grandi difficoltà. E' chiaro che non è automatico se pensi che io ancora non ho visto Ben Dancourt. E domani abbiamo la partita. Quindi se ti metti nei panni di un giocatore non è facile nel giro di poche ore rimbalzare da un modo di giocare all'altro, da una mentalità all'altra, da obiettivi diversi uno dall'altro. Non è semplice. Buongiorno mister, il Bersomaro Messaggero ve lo chiedevo, visto che si è chiusa la finestra di mercato, se ha già parlato con Mandzukic e se può fare o no affidamento su di lui da qua a fine stagione? E se può anche allargare il discorso a Perina e Piazza? Grazie. A Piazza in questo momento non è disponibile, ha avuto un piccolo infortunio al ginocchio, niente di preoccupante. Comunque non è disponibile, con noi si è allenato pochissimo. E in questo momento Manzo dice che non si sta allenando con noi per un accordo suo con la società. Se poi l'accordo con la società cambia io sono aperto a tutto. Altre domande? Simone? Buongiorno mister, Simone Robera, Remsesport. Volevo chiedere una cosa su Matuidi. A inizio stagione forse sbagliando tutti un po' l'avevamo messo nelle riserve. Ma è una cosa che gli succede da anni per averlo seguito al Paris Saint Germain. Lui era sempre, inizio stagione, nelle riserve. Poi anche Ancelotti disse, mi ha sorpreso, oggi è importante come Ibrahimovic e Tiago Silva. All'inizio non lo era. Qual è la forza di Matuidi per ribaltare sempre le gerarchie? L'ha fatto con tutti gli allenatori e l'ha fatto anche con lei. Io sinceramente non avevo nessuna preclusione né un fronte di Matuidi. Quindi non è che avevo una gerarchia precisa. Ma sono i classici giocatori e poi in campo sono utili. Sono utili con qualsiasi filosofia di gioco. Il giocatore ha un dinamismo straordinario, ha dei numeri fisici straordinari. Il giocatore ha un numero di palloni reoperati straordinari. È un giocatore che capisce le situazioni e è pronto a mettersi costantemente a disposizione della squadra. Capisce quando deve fare certi movimenti e quando ne deve fare altri. Quindi sono i classici giocatori. E poi per un allenatore diventano importanti. Perché ti danno solidità, ti danno equilibrio, ti danno stabilità. E diventano giocatori importanti in qualsiasi modo di giocare. Guarda là di nuovo. Io ho una curiosità su Quadrado. Perché l'aveva detto, l'aveva fatto lavorare molto da terzino. Poi per necessità, quando si era fatto male Douglas Costa, era tornato a giocare davanti. Poi è tornato a fare il terzino. Le chiedo, rientrando Danilo e prossimamente anche De Sciglio, se a questo punto il ruolo di Quadrado sarà quello di Jolly. Ma in generale a lei non piace molto quando non ci sono le specificità. Oppure se tornerà ad essere un'alternativa a Douglas Costa. Io Quadrado continuerò a farlo allenare da difensore esterno. Tanto se mi giova più alto, c'è accelerazione e qualità per l'interpretazione del ruolo per caratteristiche personali. La difensore esterno sta facendo dei passi in avanti enormi. Perché dal punto di vista Tati ha fatto dei passi in avanti enormi nel tenere la linea e nel rapportarsi nei compagni di reparto. Deve fare ancora dei piccoli passi in avanti nella fase difensiva individuale. Ogni tanto va a prendersi dei rischi che potrebbe evitare. Quindi ritengo che abbia più la necessità di allenarsi da difensore esterno e non da attaccante esterno. Una curiosità invece, facendo un po' un check-up sui giocatori che hanno giocato in nazionale. Ronaldo ha segnato il suo settecentesimo gol, Di Bala con l'Argentina è rientrato anche prima rispetto al solito. Quindi se ci può fare anche un bilancio di questa pausa nazionale, come hanno ritrovato i giocatori e anche come hanno ritrovato De Miral che è stato nell'occhio del ciclone per quello che è successo con la Turchia. Grazie. Quando tornano dalle nazionali non è mai estremamente semplice perché poi abbiamo giocatori che hanno giocato martedì e quindi chiaramente chi ha giocato martedì anche ieri ha fatto un allenamento di scario e non era in gruppo. Quindi pensa che per dieci giorni abbiamo fatto allenamento con tre giocatori e due portieri. Quindi sono sempre momenti abbastanza difficili ma è difficile valutare le ondizioni di un giocatore a rientro. Questa volta abbiamo la fortuna che 4-5 hanno giocato domenica e quindi hanno altro allenamento con noi. De Miral l'ho trovato normale dal punto di vista dei rapporti con i compagni e dell'atteggiamento che sta tenendo durante l'allenamento. Tutti i resti sono problemi della federazione turca e dell'UEFA che ha aperto un'inchiesta.